Rieccoci qui con il nostro coso ancora a caccia di cibo per crescere e diventare grandi e forti e poter un giorno camminare sulla terra. Ma per ora ci serve ancora altra carne, mi sa che se andiamo avanti di questo passo per i prossimi mille secoli rimarremo in questa forma in questo diamine di brodino primordiale con sti batteri che sono peggio dell'influenza suina. Purtroppo non so più cosa dire, non si fa nient'altro che cibarsi. Non so neanche più che battute fare. La vita faceva veramente schifo agli inizi. Ma è ricca invece di cercare il cibo una di queste cellule o esseri monocellulari non apre un ristorante per poter mangiare, se qualcuno lo facesse prenderebbe un saccoc di soldi e diventerebbe ricco in poco tempo. Se fossi vissuto a quell'epoca mi sarei dato alla bella vita. Ma guarda che bel branchetto. Mo vi mangio tutti mua. Ah ma quanto sono cattivo. Sono più cattivo persino degli esattori delle tasse e quelli non li batte veramente nessuno. Mi è venuta un'idea pazza che ne dite se chiudo qua spore e ci facciamo tutti insieme una bella. È meglio che lasciamo stare x di lascio alla vostra immaginazione come dovrebbe finire questa frase. Scommetto che tutti quanti state pensando male vero? Ahia che male, ci mancava soltanto incontrare i Pikachu monocellulari. Ehi ma questa è una scoperta incredibile, questo vuol dire che i Pokémon esistono veramente. Con questa informazione potrei diventare ricco. Anzi meglio di no, poi gli ambientalisti mi denunciano per affermazioni false e calugnose. Idea geniale. Visto che sono una cellula e quindi in teoria un animale sono tutelato dal WWF. Gli ambientalisti sono con me, grazie a loro conquisterò il mondo e batterò a scacchi un orso. Questa ultima idea è da pazzi e irrealizzabile ma può anche accadere in futuro. Chi lo sa. Ehi cellula nera come la pece adesso verrai mangiata da me, non sei contenta? Ma quanto ci manca per diventare grandi? Non avrei mai immaginato che la crescita di una cellula fosse così lunga. Beh almeno crescendo mi è cambiato il tono di voce, almeno adesso sembro un figo della Madonna e tutte le ragazze vorranno andarci con me. Merda mi sono scordato che non esistono le femmine e quindi neanche la patata. Mondo crudele voglio morire. Ragazzi stavo scherzando non voglio morire era un modo di dire non dovete essere così seri, mi sembrate tanto carini non serve che litighiamo. Se promettete di fare i bravi vi prometto che una volta diventato grande regalo ad ognuno di voi una bambola sbrodolina, così potrete divertirvi a giocare con lei tutto il giorno e non scassate i maroni a me ok? Aiuto mo ci mancavano pure le cellule che mollano le lorfe in acqua. Già a quest'epoca si sta formando il bco dell'ozono. Fate un favore al mondo basta nutrirvi di borlotti. Fatevi una bella pasta con le sarde che vi sazia molto di più. Adesso ti mangio cicciopanza. Ehi voi cosi viola lasciatemi in pace. Aiuto non voglio morire ti prego sponge bob aiutami tu. Help me please. Merda sono morto. E perché mi è venuta la voce da femmina? Oh no non dirmi che. Dov'è finito il mio organo riproduttivo maschile? Non ci posso credere quei cosi me lo hanno tranciato e ora sono rinato femmina. Ma perché tutte le disgrazie devono capitare sempre a me? E ora cosa faccio? Non voglio essere una femmina. A me piace la patata non il pisello. Come farò ora a dire a quella bellissima cellula che sono rinato così e che non la posso più soddisfare come prima? Ma perché la vita è così ingiusta con me? Maledetto sviluppatore del video che mi fa crepare e rinascere femmina. Giuro che dopo questo conandrite mitico ho chiuso per sempre. Sa. Sa. Prova. Prova. Ah. Ah. E vai sono tornato maschio XB. Dopo quella brutta disavventura voglio crescere in fretta e andarmente sulla terra dove sicuramente i pericoli saranno molto ma molto minori. Ma prima di questo devo mandare un grosso ringraziamento a quel coso che mi ha loffato addosso facendomi tornare quello che ero. Sapevo che in fondo le scorregge sono utili al mondo. Dai ragazzi manca poco e finalmente posso andarmene dal barudino e andare a camminare con le mie zampe. Spero che sulla terra abbiano già costruito i videogame, i fast food e le discoteche. Se queste cose non ci sono le costruirò io. Farò diventare questo pianeta il più tecnologico dell'intero universo. Chi mal di testa? Cosa sta succedendo? Che figata, mi è apparso un cervello in testa. Ora sono pronto a iniziare una nuova vita. Da adesso il mio motto è fallo più che puoi e con chi vuoi dove vuoi XB. Bene ragazzi vado, spero che anche voi avrete una vita felice come si prospetta la mia. Un saluto dal vostro cosino preferito. Addio gente e buona fortuna a tutti. Ehi ciao cosino piccolo piccolo. Che begli occhietti che hai. E che bei dentini. Ehi perché ti avvicini in quella maniera. Mica vuoi. No ti prego. Aiuto nooo.